ciao a tutti amici e benvenuti alla bianco auto oggi vi voglio presentare questa vettura molto molto particolare che una golf gt 230 cavalli performance cambio manuale dell'anno 2016 con solo 61 mila chilometri ex dipendenti volkswagen direttamente dalla germania la vettura colore bianco un 230 performance ea le sospensioni elettronica regolabile elettricamente che se ne trovano pochissime vettura con le ruote da 18 gli pneumatici sono nuovi appena montati michelin tra l'altro fendinebbia fare roxeno guardate che i pneumatici sono nuovi appena montati vetri scuri posteriori anche il parcheggio assistito quindi anche i sensori laterali come vedete guardate che bella questa vettura in perfette condizioni anche i cerchi non sono spellati non sono graffiati allora andiamo a a vederla internamente vedete che è in ordine in ogni sua parte vedete andiamo a vedere la parte posteriore sinistra eccola qua la nostra bella golf gt 280 cavalli performance manuale anno 2016 andiamo a vedere il baule abbiamo il nostro bel dispositivo carico passante baule ampio lo ricordo gommata nuovo appena montate guardate anche gli interni sono perfetti andiamo a vedere anche qua ecco allora andiamo un attimino a capire che accessori ha internamente questa vettura bellissimo 61 mila chilometri nuovo allora volante multifunzione col cruise control fare automatici fendinebbia e qua abbiamo il navigatore grande quindi il navigatore pro e il dcc driving mode cosa vuol dire che oltre andare a selezionare l'impostazione di guida come motore possiamo anche andare a selezionare le sospensioni e lo vediamo da qua vedete che c'è lo le sospensioni le possiamo mettere in sport conforto manuale lo sterzo il motore il bloccaggio differenziale il climatizzatore e il sound interno del motore quindi possiamo andare a regolare le sospensioni in sport normal comfort eco figata fantastica navigatore satellitare app con radio telefono bluetooth poi qui abbiamo i sensori parcheggio avanti e dietro ma anche il park assist vedete la macchina volendo parcheggia da solo radio cd chiavetto usb clima automatico sedili riscaldati qui abbiamo il cassettino col suo libretto service con tutti italiani timbrati che nell'annuncio su autoscout sul nostro sito biancoauto.it c'è il libretto serve tutti italiani fatti precedentemente in germania la vettura la consegniamo con 36 mesi di garanzia che valgono in tutti italiani tutta europa ovviamente anche per chi viene da lontano tagliando fatto di tutti i filtri sanificazione degli interni lucidatura degli esterni doppie chiavi e libretto di istruzioni in italiano questa vettura fantastica la trovate a motta di costiglio le dasti presso bianco auto il numero di telefono è 0141 96 92 14 il sito internet è info ciociolabiancoauto.it per chi volesse venire a vedere provare questa vettura bastate che ci chiamate prendete un appuntamento e facciamo il tutto una vettura perché voglia di divertirsi bella fresca interessante con degli accessori veramente non facili da trovare ciao a tutti amici alla prossima